Il Comune di Pescara è al lavoro per ampliare l'offerta di posti letto e strutture d'accoglienza per i senza tetto facendo rete con le associazioni sul territorio. L'assessore comunale al disagio sociale Nicola Dinizio torna sulla questione dell'accoglienza delle persone con disagi, raccogliendo l'appello di Don Marco Pagnello della Caritas e sottolineando però che ci sarà il pugno duro con chi non accetterà l'aiuto di associazioni ed enti. È un problema molto grande per Pescara che tutti gli anni si presenta e insieme al sindaco e insieme alle associazioni questo Comune ha messo a disposizione le associazioni sociali, i volontariati e tutti. È ovvio che chi non vuole essere aiutato deve andare fuori da Pescara, noi ce la mettiamo tutta e siamo a disposizione. Insieme anche alla Caritas abbiamo già un appuntamento per lunedì, è ovvio che ne dobbiamo parlare e sicuramente si spera e si aspica in una soluzione quanto prima. Avete individuato delle strutture presenti nel Comune di Pescara, nella città di Pescara dove potrebbero essere ospitate queste persone in caso di problemi come il freddo in questo caso? Allora, sicuramente sì, sicuramente ci sono, ci sono dei progetti in essere e vedremo nei prossimi giorni. Avete fatto anche un censimento per il momento su quante persone si trovano in stato di disagio nella nostra città? Guardi, ce ne sono tanti, adesso un numero esatto non glielo so dire, però ce ne sono tanti. Ripeto, insieme a questi tanti c'è una buona fetta che non vuole essere aiutata. E ripeto con fermezza che chi non vuole essere aiutato, ahimai deve andare fuori da Pescara, da questa città.